Che ne pensate di un quiet book natalizio? Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio mostrarvi un quiet book, un libro sensoriale realizzato a tema natalizio per il mio bambino Alessandro. Alessandro va matto per i miei tappeti sensoriali e libri sensoriali e quindi siccome va matto per il Natale, ho pensato di realizzargliene uno tema natalizio e adesso ve lo mostro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.